ARRIVATI A LIVELLO 100 STAGIONALE PROAT Lo prende anche in questa season e andiamo ragazzi a vedere il punto esclamativo Sopra armadietto intanto ragazzi ringraziamo Exynoproat quello che fa i funny moments Ha fatto il regalo AZZ AZZ SURGULU PROAT Grazie SURGULU il regalo per i 100 abbiamo raggiunto anche il livello 90 del pass battaglia Ma andiamo a vedere l'armadietto ragazzi andiamo a vederlo AIA 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 ragazzi AIA Subito qui subito qui ragazzi PROAT Il nuovo spray di livello 100 ragazzi lo andiamo a mettere in collezione insieme agli altri due Ma non è finito perché c'è anche l'adesivo del livello 100 Questo ovviamente è lo spray del 90 ma ragazzi andiamo a cambiare lo standard Come in ogni season dovrebbe esserci lo standard di livello 100 Vediamo un po' dov'è Questo è quello della season 7 Questo è quello della season 6 Dov'è? Dov'è quello della season 8? Eccolo ragazzi il colore Il colore deve essere a tema della giungla di cose quindi direi un bel verde ragazzi che ci sta Ed eccolo qua il nuovo standardo a livello 100 ragazzi Grazie a tutti grandi per avere seguito anche questa avventura Ovviamente speriamo di arrivare a livello 100 anche nella season numero 9 E' un bel verde ragazzi che si è piaciuto anche questa avventura